Nome. Archibald Dahl. Soprannome. Monster Butler. Numero vittime. 5. Modus operandi. Arma da fuoco, soffocamento, oggetti contondenti. Archibald Dahl nasce il 17 giugno 1924 in Scozia. A soli 15 anni era già un ladruncolo. Aveva iniziato rubando le offerte per la Croce Rossa, fino a diventare un vero e proprio truffatore, spacciandosi per un ricco imprenditore americano. Motivo per il quale fu arresto nel 1941. Nel 1964 fu arrestato nuovamente per aver rubato dei gioielli, ma evase di prigione dopo pochi giorni, per poi essere ricatturato e condannato ad altri dieci anni. Ma nel 1972 fu rilasciato sulla parola. In quell'anno conobbe Mary Cogle, un irlandese che divenne sua amante e, successivamente, moglie. Ma il matrimonio durò pochissimo. In quel periodo iniziò a lavorare come maggiordomo per personaggi ricchi e famosi. Ma nel 1973 fu di nuovo arrestato per furto, fino al 1977. Iniziò a lavorare come maggiordomo per Lady Hudson, una vedova di un parlamentare, e durante il suo periodo di lavoro, poco alla volta, rubava oggetti di valore, argento, oro. L'unico che sapeva di questi furti, era David Wright, un ex detenuto con il quale aveva stretto amicizia in galera, proprio per il lavoro in comune come maggiordomo. Un giorno, Wright rubò i gioielli di Lady Hudson, e minacciò Hall che se avesse parlato, lui avrebbe fatto altrettanto. Il giorno seguente la forte discussione, che stava anche per finire in tragedia, in quanto Wright aveva puntato un fucile alla testa di Hall, quest'ultimo lo invitò a caccia di conigli per trovare anche una soluzione amichevole. Wright accettò. Dopo poco tempo di caccia, Hall sparò alla testa di Wright con un colpo di pistola, e lo seppellì vicino ad un ruscello. Poco tempo dopo, Lady Hudson venne a sapere della carriera criminale del suo maggiordomo, quindi lo licenziò. Trasferitosi a Londra nel novembre 1977, ottenne ancora una volta un posto di maggiordomo, questa volta per l'82enne Walter Traverscott Elliot, e sua moglie Dorothy. Hall notò subito che nella loro casa c'erano oggetti d'antiquariato inestimabili e decise che questo sarebbe stato il colpo più grande. Così grande da poter andare direttamente in pensione se avesse avuto successo. Infatti la famiglia Elliot era molto ricca, erano banchieri ed avevano conti bancari in tutto il mondo, oltre ad essere proprietari di molte case in tutta la Gran Bretagna. Non molto tempo dopo, una sera, Hall si trovava in un pub a bere, quando conobbe Michael Kitto, un lusco individuo che aveva anche lui dei precedenti per microcriminalità. Acquisita fiducia nei suoi confronti, Hall gli parlò della casa in cui stava lavorando, e del furto che voleva compiere. Coincidenza vuole, Kitto era fidanzato con la ex moglie di Hall. Dunque si misero d'accordo tutte e tre per svaliggiare la casa della famiglia. È la notte dell'8 dicembre 1977. La signora Elliot sarebbe dovuta andare in una casa di cura per alcuni giorni, e Hall ne approfittò per invitare Kitto nella residenza per fargli vedere quanto rubare, mentre il marito dormiva. Ma la signora Elliot era tornata in giornata, senza che Hall sapesse nulla. Mentre il signor Elliot dormiva profondamente, i due ladri girarono tutta la casa, riservando la stanza dal letto per ultima. Aprirono la porta delicatamente per non svegliare il marito, ma di sorpresa videro la moglie, la quale si spaventò per la presenza dello sconosciuto Kitto. I due reagirono di impulso. La presero di forza, tappandole la bocca prima che potesse gridare. La trascinarono fuori dalla camera e o la soffocò con un cuscino. Poi portarono il cadavere a letto, mettendola in una posa da sembrare addormentata. Il marito si sarebbe dovuto svegliare presto per andare a lavorare nel suo club, e non l'avrebbe svegliata. Il giorno seguente, mentre Elliot era fuori casa, si riunirono i tre ladri per decidere il da farsi. Portarono il cadavere della signora nel bagagliaio dell'auto di Kitto, poi rientrarono nella residenza. Mary Cogle avrebbe dovuto vestirsi come la signora Elliot e andare a letto, per fingerne le sembianze. Hall, invece, avrebbe dovuto drogare il signore Elliot, aumentando la dose delle sue medicine giornaliere, in modo che non si sarebbe nemmeno accorto che, in realtà, la donna nel suo letto era Mary. E così avvenne. Portarono il signore Elliot, sedato, e il cadavere di sua moglie vicino ad un bosco. In quel luogo picchiarono l'uomo, lo colpirono numerose volte con un badile, e lo strangolarono a morte. Poi seppellirono i cadaveri. Tornarono tutte e tre nella residenza. Quella notte però si alzò la tensione. Mary non voleva togliersi la pelliccia e i gioielli della signora Elliot. Indossandoli, stava attirando troppa attenzione. Scoppiò una lite che finì in violenza. Hall colpì Mary alla testa, facendola cadere, poi le avvolse un sacchetto intorno la testa fino ad ucciderla soffocata. Sempre quella notte, Hall e Kitto, portarono il cadavere della donna vicino ad un ruscello e l'abbandonarono lì. Ormai amiconi, i due passarono le feste in famiglia di Hall. A festeggiare con la famiglia, c'era anche il fratellastro, Donald, un noto pedofilo, da poco rilasciato dopo anni di galera. Hall odiava Donald. Il 15 gennaio 1978, lo tramortì con del cloroformio, e lo fece annegare nella vasca da bagno. La coppia di ladri ripartì, con il cadavere di Donald, in cerca di un posto per smaltirlo. Stava nevicando e il terreno era ghiacciato, così decisero di passare la notte al Blenheim House Hotel, North Berwick. Il proprietario dell'hotel era sospettoso riguardo ai suoi due nuovi ospiti e ha telefonato alla polizia locale e ha chiesto loro di controllare la registrazione della loro auto. Hall aveva fatto di recente cambiare la targa dell'auto di con una falsa. Questa fu la loro rovina. Quando la polizia, fatto il controllo, si presentò alla porta della loro camera, i due scapparono dalla finestra del bagno. Dopo un sopralluogo, videro che la finestra del bagno, che dava sulla strada, era aperta. Capirono che erano scappati. Intanto perquisirono l'auto, trovando il cadavere di Donald. I due furono, però, catturati poco dopo, a pochi isolati dall'hotel. Nel frattempo era stato trovato anche il cadavere di Mary, mentre per la famiglia Elliot, le indagini erano ancora in corso. Dopo svariati interrogatori, Hall cedette e confessò tutti gli omicidi. Il processo iniziò nel maggio 1978. Hall venne descritto dalla giuria come un vero e proprio psicopatico. Kitto aveva solo partecipato ai suoi crimini, come aiutante, ma ad uccidere era stato Hall. Il processo finale si fece nel novembre 1978. Kitto fu condannato a cinque anni, mentre Hall ricevette l'ergastolo senza condizionale. Morì in prigione nel 2002 per un ictus.